Penso che l'approccio alla partita sia stato abbastanza buono, importante. Nel primo tempo abbiamo comunque fatto la nostra partita, eravamo belli compatti, uniti. La Sampdoria penso non abbia creato granché noi, un paio di azioni pericolose le abbiamo fatte, però non basta, non basta e dobbiamo fare di più, dobbiamo fare meglio, dobbiamo tirare fuori di più da noi stessi, per amore nostro, per amore di chi ci ha scelto, per noi, per le famiglie, per quello che siamo, per quello che rappresentiamo. Dobbiamo alzare la testa, andare avanti, sappiamo che dobbiamo fare di meglio e dobbiamo lavorare solo per questo. È stata una bella sensazione, tornare a fare quello che più ti piace è sempre bello, inevitabilmente. Avrei preferito sicuramente un altro scenario, però le cose stanno così. Sono tre mesi e mezzo, quattro mesi che sono fuori dai giochi e mi dispiace non aver potuto dare il mio contributo a questa squadra, a questo gruppo, a questa società. Questo è quello che più mi dispiace, più mi rattrista, però sono cose che succedono nel calcio, non sono programmate. Ho fatto di tutto per cercare di recuperare il prima possibile, però sono stati due infortuni di lungo periodo, quindi mi dispiace. Mi dispiace, è una situazione brutta, particolare, in cui non ci saremmo mai voluti ritrovare, però dobbiamo guardare in faccia la realtà e ora dobbiamo salvare salvabile. Ogni partita bisogna avere degli obiettivi. Arrivare ultimi in Serie A non è mai piacevole, penso. Quindi dobbiamo fare di tutto per evitare questa situazione. Non è facile perché i risultati non stanno arrivando, tutto il campionato probabilmente non siamo stati all'altezza di questa categoria, perché poi alla fine i conti parlano chiaro. E quindi adesso mancano sei partite. Sì, dobbiamo salvare la faccia, dobbiamo dare qualcosa in più per chi comunque ci ha scelto, per la città, anche per i tifosi che stanno soffrendo probabilmente più di noi, quindi dobbiamo fare di più.